Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Gelindo Bordin che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Gelindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il Keniano Vaccioli è molto lontano mentre ha ceduto il cipotiano Mestalem. E Bordin a pochi metterà il traguardo, medaglia d'oro per l'azzurro nella maratona che taglia il traguardo in questo momento. Si volta ancora e taglia il traguardo, alza le braccia e poi crolla sulla pista, stanchissimo. Ma bacio per terra, il bacio alla pista dell'atletica leggera qui dello Stato Olimpico di Seul.